Sì, allora, siccome che tra un po' è Natale, vedi, Anthony mi fa che regalo volevo, che cazzo ne so, ma perché sai che io comunque non sono una che pretende, una che vuole chissà che regali costosi, allora gli ho detto prendimi il mobile dei trucchi che vende circa 400 euro, niente di chissà che cosa, vedi, a me non piace pretendere, mi sento male, capito? Allora gli ho detto, ho il mobile dei trucchi 400 euro, o se no, a me piaceva la razza dei gatti, quelli che si chiamano, quelli che sono grossi, quei gatti giganti, come si chiamano, minchion, una roba simile, zitta, bellissimi, e volevo quelli, lo so che i gatti, i cani vanno presi in canile, in gattile, è giusto, perché comunque loro soffrono di più rispetto agli altri che stanno in allevamento, Però amiche, almeno una cosa di marca, zitta, la posso avere, ce l'ho preso il gatto sotto marca, ce l'ho a casa, però per una volta in vita mia, voglio avere una cosa di marca, già che sto sempre tutta pezzata, con le pezze addosso, almeno una cosa di marca la posso avere, zitta E che questo qua, il minchion, deve costare almeno sugli 800, 900 euro, anche lì, vedi, sono economica, niente di chissà che cosa, quindi l'ho detto, ho il mobile dei 400 euro dei trucchi, che mi serve per mettere a posto tutti i trucchi, o il minchion da 700, 800 euro, e niente E niente